Ciao ragazzi, sono Ander Settembrini, giocatore della Virtus Entella. Mi ricordo con molta gioia i due anni che ho passato a Poggi Bonzi. Ho anche la vostra scialpa che non mi ricordo in quale occasione mi è stata regalata. Ovviamente sono stati dei due anni veramente belli. Ricordo benissimo quelle due annate, soprattutto la seconda in cui avevamo un grandissimo gruppo e un gruppo veramente unito. E quindi quando ricordo la vostra città, la vostra squadra, la ricordo sempre con grande affetto. Ovviamente questo è un periodo un po' così per tutti, quindi ragazzi dobbiamo stare a casa, tutti uniti, perché vinceremo questa partita anche fuori dal campo. Ciao ragazzi, un abbraccio e forza Poggi Bonzi!